In cammino verso il Sinodo e verso Panama. Sono i giovani che Papa Francesco ha incontrato nella viglia di preghiera nella Basilica Romana di Santa Maria Maggiore per la 32esima GMG Diocesana. In un discorso a braccio, frutto dell'ascolto delle testimonianze di alcuni ragazzi come Suor Maria Lise e Pompeo, Francesco ha parlato del prossimo Sinodo dei Giovani in calendario nell'ottobre 2018. Il Sinodo è il Sinodo per e di tutti i giovani. I giovani sono i protagonisti, ma anche i giovani che si sentono agnostici, sì. Anche i giovani che hanno la fede tiepida, sì. Anche i giovani allontanati dalla Chiesa, sì. Anche i giovani che, non so se qualcuno, ma magari ci sia qualcuno, i giovani che si sentono atei, sì. Questo è il Sinodo dei Giovani. E noi tutti vogliamo ascoltarci. Giovani, ha ricordato il Papa, non in pensione, né da divano, ma capaci di ideali da seguire anche se sono scartati, senza lavoro, senza integrazione. Situazioni che non possono essere tollerate. Ma giovani che devono soprattutto rischiare per il futuro, per qualcuno, osando con la mente, il cuore e le mani, con concretezza. È stata una la richiesta del Papa, dialogare con i nonni perché i loro sogni siano portati avanti, perché diventino profezia. È questa la missione che, affermato, vi chiede oggi la Chiesa. Ed è questo che il Papa, non so se sarò io, ha detto, vi chiederà a Panama.